Non sei obbligato a completare l'opera, ma non sei nemmeno libero di lasciarla perdere. L'amore non muta con le sue breve ore o settimane, ma esiste fino all'ordine del giudizio. Se questo è un errore, e mi si è provato, io non l'ho mai scritto e nessuno l'ho mai amato. Essere o non essere? È questo che mi chiedo. Se è più grande l'animo che sopporta i colpi di fionda e i dardi della fortuna insensata, o quello che si arma contro un mare di guai e opponendosi gli annienta. Grazie a tutti.